ciao a tutti ragazzi oggi giocheremo a nintendo spikets versione bulldog francese perché io non trovo più sinceramente la schedina di nintendo barboncino appena troverò ricomincerò il gioco perché ormai da un annetto che gioco quindi dovrei cominciarlo e allora iniziamo oggi è martedì 25 marzo allora faccio vedere prima il codice amico per tutti quelli che voglio mettere altrimenti se mi metto da me mi dovete dare il vostro codice amico se no e volevo chiedere se faccio un po' basso vedete io sono online scusate io sono online alcuni questi poi c'è break it che è questa qui c'è da disney web mi vorrei che mi aggiungesse se non ho scritto tutto il nome poi intanto appare da solo il nome metti un nome nel canale poi appare da solo il suo nome vero se mi aggiungesse adesso faccio del codice anche se non ho già detto magari non l'ho letto questo mi faccio del mio codice amico questo è il mio codice amico oddio questo è il mio codice amico questo è il mio codice amico 085 69 95 85 ok ok ora iniziamo iniziamo allora questo è la news perché non so se avete visto tutti i miei video sono un pochino un pochetti di intellizio perché non ne faccio tantissime però appena posso li faccio allora scusate che se sentite dei rumori scusatemi tanto un pochino un pochino un po' questo si vedava meglio scusate per i rumori comunque vi faccio del team e ho un gatto è un po' tardi però questa è un pochino un po' tardi è bellissima tutta rannicchiata adesso mettiamo tutte le sue cosette ho fatto una foto senza un lino scusate aria labbra dove ti verrà adesso mi ha già da mangiare perché dove sono appena tornata e a 577 io vi spiego come voglio spiegarmi una cosa io ho tre cani in casa come vedete notare ho tre cani allora vi spiego come faccio io per prendere un cucciolo allora guardo il primo il primo deve arrivare ai mille punti e poi lo posso mettere in albergo qui ci sono 500 punti e questo deve averne 200 i catti fanno molta fatica quindi ci metteremo una vita almeno questo un pochino ci metteremo vabbè allora ah devo far vedere aria aria a 576 punti una femminuccia che adoro le persone e non sopravvano i piedi o niente cosa con quella mia anzi no molto diverso il raccomandio dopo non con voi ma dopo le farò imparare allora sta seduta la zampa l'altra terra dormi rotola perché gira lo confonde quindi ho messo coccole perché lo confonde pancia lo confonde coccole due zampe su poi devo insegnare questi e i testati in aria è alla dilettante la principiante e la principiante perché l'ho preso da molto tempo però non mi piace farle gare cioè si mi piace però non mi piace andare a mi allenare quindi perdiamo sempre red red è lui si non scusate red è lui anche lui non ha nicchiato è un bassotto molto carino ok ora vi faccio vedere allora red 338 punti un maschietto birichino che drafica il naso ovunque basta eseggi a scotarlo copertura sotto peso pulito e l'anco comandi lui ne sa pochissimi sta seduto la zampa l'arca terra riposo e poi ne ho saltati tre e sono andato subito su su punto risultati in principianti 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 infine maculato è stato molto difficile scegliere questo nome perché volevo chiamarlo macchia ma il mio primo chiamolo ne ho chiamato macchia volevo chiamarlo chiazza ma è un maschio non andava bene mi sembra troppo da femmina chiazza goccia femmina poi ho trovato maculato volevo chiamarlo Leo però mi sembra troppo da leone perché Leo volevo fare il diminutivo di lopardo però guardate cosa fa è pazzo sto gatto è sempre una femmina ma è maschio lo dico io dopo lo vedrete ok vi faccio vedere che è un maschio è un maschio scusate maculato 27 schifezzo proprio l'ho preso ieri un maschietto dolce tranquillo che ama divertirsi con il suo giocattolo maculato catto comune sotto peso non ha fame strano è il telefono si è semplice di scuidare il telefono e ho pulito ok ora li ho pulito a mangiare e poi vi faccio vedere tutti i miei oggetti intanto vi faccio ok allora io gli oggetti ho 25 bottiglie d'acqua ho 25 bottiglie d'acqua 2 di latte 5 crocchette per cani 3 crocchette per cani 3 crocchette per cani 50 biscotti 20 biscotti poi ho un biscotto 21 biscotti un osso 20 tonni un biscotto una spazzola un altro un'altra spazzola uno shampoo tre shampoo speciali una pallina un osso un fumo un cubo un disco un disco professionista un disco un disco poi un boomerang unesca 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 professionista unesca un palloncino delle bolle una canna un ranocchio un elicottero un peluccio la cattera vabbè una musica uno musica quattro musica cinque musica musica classica cinque legno ferro gomma cuoio plastica stella collare di cuoio scusate vabbè collare 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 fiocco fiocco imisco girasole cappello berretto visiera cappello cappello cuffia cuccia letto tiragraffi ecco questi sono i miei oggetti da mangiare ai cani perché il gatto non aveva fame quindi devo spiegare il cibo questo avvicino si vede meglio scusate se questo video lo sto facendo con la webcam ma solo che solo il sabato la domenica posso usare la videocamera perché i miei genitori me la fanno solo il sabato la domenica quindi devo usarla la webcam con la webcam di tutti scusate ok ora il mio diario vabbè non ho scritto niente perché il mio schermo è stato un pochino rotto quindi quando io punto una cosa qui me la punta nell'altro lato e faccio vedere questa allora è il tt tutto no no perché non si vede in tt infatti comunque d'olibisco ah io ho scritto new kit di vacu che sopra il nome mi piace scrivermi perché è più carino però volevo chiedervi ragazzi ma se si può incontrare persone famiche di internet scrivetemelo sotto i commenti perché è una domanda che mi faccio da sempre però non riesco mai a capirla perché io da poco ho iniziato a usare internet nel 3d quindi volevo capire perché ho chiesto molte persone che hanno nintendogs di avere il suo codice amico per andare sul cosmo e cosa posso dare decidete voi così fatemi sapere cosa volete perché io non lo so vi do cosa vi do vi do il 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 fiocco cosa potete decidete voi va bene comunque se vedete questa immagine è il mio il 390 secondi in l'incontri che scherzia veramente faccio pena perché almeno non c'è nessuno con gli internet di esse almeno si c'è però non è niente no ok facciamo ora non so quanti mi sto facendo quindi ne faccio ancora un pochino allora ora faccio non lo so sinceramente faccio le coccole al gatto no io faccio vedere i 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 è troppo carino quando fa così allora ariel ariel seduta non so seduta seduta la zappa l'altra terra dormi riposo mangia mangia non lo mangia ecco scusate se ho coperto da questi di bisogno riposo riposo dormi vabbè non poi li addestrerò questo è un brevissimo video troppo carino prossimamente lo farò con 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 la telecamera così sarà più buono credo di farlo ogni sabato domenica o martedì o lunedì anche lunedì posso dare la macchina fotografica comunque spero che questo video vi sia piaciuto per favore scrivetemi se si possono fare cose con spasso se volete il mio codice amico che potete riguardare l'inizio e il vostro naturalmente anche il codice amico e se e e qual'oggetto volete che metta come come quello di del diario per incontrare grazie per aver guardato questo video ciao